Bisogna anche avere il coraggio di dire con la stessa franchezza che nel decennio appena trascorso, direi più nel quindicennio appena trascorso, anche noi come centrosinistra siamo rimasti molto affascinati dal tema della questione settentrionale perché avevamo da inseguire comprensibilmente, non voglio dire che questo è giusto o sbagliato, è stato un dato di fatto, il problema della Lega al Nord, perché se no non siamo fino in fondo corretti con noi stessi, noi abbiamo fatto tante iniziative sulla questione settentrionale, non vincevamo al Nord neanche col Grattevinci, per cui c'è stata una discussione impegnativa sulla questione settentrionale, i viaggi nei distretti, le iniziative economiche per cercare di recuperare una parte di regioni, una parte riuscita, una parte no, diciamolo, ma questo non può esimere la classe dirigente del Mezzogiorno ad assumersi le proprie responsabilità, quindi c'è un fatto storico, culturale che non affrontiamo adesso, c'è un fatto di cronaca e cioè sicuramente l'autoassoluzione del dire ci hanno abbandonato non può essere accettata e il PD deve anche porsi la domanda come PD, come Ulivo, come centrosinistra, se in questi anni non abbiamo dato priorità alla questione settentrionale che a mio giudizio non può essere un inseguimento sulla Lega.